Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV e buon primo maggio a tutti i lavoratori. Oggi allora appunto festa del lavoro, una giornata che ad Arezzo si è aperta con il ricordo dei due morti all'archivio di Stato. Piero manca tantissimo, veramente, era una persona splendida, mio marito splendido, poi è così, purtroppo non si cancellerà mai questo dolore. Sono trascorsi sei anni, da quel 20 settembre 2018, quando Piero Brugni e Filippo Bagni furono uccisi da una fuga di gas argon dall'impianto antincendio dell'archivio di Stato. Questo dovrebbe servire, questo, a riaccendere, specie nelle istituzioni, l'importanza di questo problema delle morti nel lavoro, che comunque uno dovrebbe andare a lavorare ma non per morire. Anche quest'anno, in occasione del primo maggio, Alclicisle e MCL hanno deciso di aprire le celebrazioni con la deposizione di una corona di fiori all'archivio, dove è stata anche intitolata una sala ai due lavoratori. Nella festa bisogna anche ricordare chi come lavoratore ha perso la vita nel luogo di lavoro e rammentare che un lavoratore deve uscire di casa sereno, perché deve essere consapevole che tornerà a casa, sicuro, salvo e sicuro. Ogni volta che si sente parlare di morti come caso più eclatante, ma anche di incidenti sul lavoro, perché poi ci sono le invalidità, permanenti o meno, che sono comunque una sconfitta. Oggi nel 2024 noi come ACLI nuovamente affermiamo che è inaccettabile sentire questi eventi a qualunque età accadano, in qualunque parte d'Italia accadano. Una giornata per ricordare tutte le morti bianche sul territorio aretino, l'ultima solamente qualche giorno fa, Manuel Cavanna, morto a 23 anni. Il territorio è rimasto schiacciato nella manastra del territorio, per tutti loro il eterno riposo è una vostra scelta, per tutti loro il eterno riposo è una vostra scelta. Dobbiamo fare tutto perché questo sia evitato. La ricetta c'è, prevenzione, formazione, controlli e stiamo tutti lavorando in questo senso. Il nostro compito come associazione è quello di tenere alta la guardia e di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica, lavoratori e datori di lavoro in questo percorso. Quindi il nostro impegno rispetto allo stimolo che dobbiamo avere nei confronti di tutte le istituzioni, di fronte ai governi, che devono impegnarsi di più perché per fare prevenzione occorre investire, investire soldi che non sono una perdita ma sono davvero un'opportunità per migliorare le condizioni. Per la morte di Piero Bruni e Filippo Bagni sono 11 le persone attualmente a processo per omicidio colposo. Già è tutto chiaro penso. Si spera che la giustizia veramente faccia il suo dovere e che le cose finiscano presto perché anche le famiglie si trovano in delle situazioni ma anche di vivere sempre questo dolore rinvigorito ogni volta. Ecco questo. Figli stanti ma orgogliosi della propria attività, figli e tutti sul lavoro, così si siano. E allora parlando ancora di appunto morti sul lavoro e infortuni nel prossimo servizio i dati INAIL. L'ultimo in ordine di tempo nell'aretino è stato il giovanissimo meccanico Manuel Cavanna, 23 anni, originario delle Chianacce nel Cortonese, morto sul lavoro a Montepulciano. Ma quello in corso è stato indubbiamente un anno nero sotto il profilo delle morti bianche in Toscana. Basti pensare alla tragedia nel cantiere fiorentino di S. Lunga dove hanno perso la vita 5 operai. A livello nazionale i dati INAIL evidenziano invece un calo delle morti bianche nel 2023. I decessi sul lavoro denunciati al 31 dicembre sono stati 1.041, meno 4,5% rispetto ai 1.090 del 2022. Sul fronte delle denunce di infortunio anche qui un calo più importante ma dovuto quasi esclusivamente alla scomparsa delle statistiche degli infortuni connessi al Covid. Le denunce di infortunio presentate all'INAIL tra gennaio e dicembre 2023 sono state quasi 600.000 in calo rispetto alle quasi 700.000 dello stesso periodo, pari a un meno 16,1%. C'è un dato su tutti però molto preoccupante, le denunce che riguardano gli under 20 studenti prevalentemente che registrano un aumento dell'11,7% da oltre 73.000 casi a oltre 82.000. Oggi 1 maggio 2024 è anche una data simbolo per quello che riguarda la scomparsa di Guerrina Piscaglia, la donna che ricorderete appunto dieci anni fa non fece rientro a casa. Era il primo maggio del 2014 da allora. Il suo corpo non è più stato ritrovato. Chiara Sadotti Di Guerrina Piscaglia non si hanno più notizie dal primo maggio 2014. Sono passati dieci anni da quando la casalinga di Carafello, all'epoca cinquantenne, scomparve nel nulla. Il suo corpo non è mai stato ritrovato ma Gratiana Labbi è stato comunque riconosciuto colpevole di aver ucciso la donna quel pomeriggio stesso all'interno della canonica e poi di aver fatto sparire il suo corpo. Un caso di cronaca che fece il Giro d'Italia. Per l'ultima volta la donna fu vista in paese quel primo maggio, indossava un abito elegante e si stava dirigendo verso la canonica dove avrebbe dovuto incontrare il viceparroco Gratiana Labbi, con il quale avrebbe avuto un rapporto sentimentale, testimoniato da ben 4.000 messaggi scambiati sino al giorno della scomparsa. Sarebbe stata proprio questa relazione clandestina, secondo i giudici, il movente del delitto. Guerrino avrebbe voluto rendere pubblico l'amore per Gratiana, mentre l'ex sacerdote non ne voleva sapere. Per impedirle di parlare l'avrebbe così uccisa. Dopo mesi di depistaggio Labbi fu indagato e poi arrestato, quindi processato e condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere, benché continui a proclamare la propria innocenza dal carcere di Rebibbia. Ad incastrarlo gli sms inviati dal cellulare della donna dopo la sua scomparsa, oltre all'analisi delle celle telefoniche agganciate. Adesso i familiari della donna, il marito Mirko e il figlio Lorenzo, hanno avanzato una richiesta di disinsarcimento da anni milionaria, ma soprattutto continuano a chiedere a Gratiana Labbi di dire la verità. Un furto nella notte all'interno della fortezza Medicea è stato portato via all'incasso raccolto per l'ingresso alla stessa fortezza. Noi siamo in collegamento con Lorenzo Cinatti, direttore della Fondazione Guido D'Arezzo. Direttore, allora che cosa è successo? Sì, allora dai primi rilievi che sono stati fatti dalla polizia e anche dal personale nostro che era andato ad aprire la fortezza, sembra che siano entrate delle persone da un pancello posteriore e hanno scassinato il cassetto con la cassa. Per fortuna l'incasso non era cospicuo e l'allarme non è suonato, quindi ora stiamo facendo con i tecnici e l'istituto di vigilanza tutti i riscontri del caso e poi naturalmente sporgeremo denuncia contro i gnoti. Tra l'altro sembra che sia stato rubato il computer della cassa, quindi facciamo una denuncia nel momento in cui abbiamo tutti i dati precisi. Ecco, allora abbiamo capito che la denuncia sarà formalizzata ovviamente nelle prossime ore, che il bottino ancora rimane da quantificare, però ecco la fortezza abbiamo capito che comunque in queste ore, in questo ponte anche del primo di maggio è rimasta aperta, giusto? È un periodo turistico importante, ma poi comunque la fortezza diciamo poi da quando si inizia la primavera, di Perfè è un luogo di grande attrazione per Arezzo, quindi è ben visitata sempre, a maggior ragione in un periodo di ponti. Abbiamo deciso che comunque anche se non abbiamo la cassa, di non penalizzare chi era venuto apposta per questo ponte e quindi l'abbiamo tenuta aperta ecco, la teneremo aperta in orario normale. Grazie dunque a Lorenzo Cinatti, direttore della Fondazione Guido d'Arezzo, per averci aggiornato insomma su questo furto che come dicevamo è avvenuto presso la fortezza Medicia, che però comunque per tutto il ponte del primo di maggio, quindi insomma fino ai prossimi giorni, sarà comunque aperta per i turisti che la vorranno visitare. La storica edicola del paese di indicatore, siamo alle porte di Arezzo, dopo 45 anni di attività, ha chiuso i battenti. Proprio ieri, 30 aprile, alla vigilia appunto della giornata dedicata ai lavoratori, l'annuncio è arrivato proprio da parte della famiglia Borgogni, che l'ha gestita per quasi 20 anni. Purtroppo non hanno avuto esito, scrive proprio Mauro Borgogni, i nostri tanti tentativi di trasferire ad altre persone questa attività, che a noi ha dato tante soddisfazioni, nel mutare dei tempi, tante soddisfazioni economiche, ma anche di natura umana. Ai nostri clienti infatti va il nostro grazie più grande. E poi aggiunge, indicatore, perde così un altro punto di socialità e di servizi, della cui importanza ci accorgeremo presto. Parliamo adesso invece del caro Bollette. Una famiglia su dieci in Toscana rientra nella cosiddetta povertà energetica. In Toscana una famiglia su dieci rientra nella cosiddetta povertà energetica, fa fatica cioè a riscaldare e illuminare la propria abitazione. Muoversi nel mercato ormai non più tutelato, ma in quello libero, è davvero una giungla per tutti, soprattutto per le fasce più deboli. Per questo in molti si rivolgono a federconsumatori. Sì, dal nostro osservatorio, da quello che viviamo ogni giorno, stiamo rilevando un aumento dei costi dell'energia abnorme. Purtroppo non suffragato, non supportato da un effettivo aumento dei costi energetici. Mi spiego meglio. Stiamo notando un fenomeno bruttissimo, sgradevolissimo, per cui alcune compagnie hanno aumentato in maniera arbitraria i costi, le tariffazioni, ma non soggiasce a questo un effettivo rincaro del mercato energetico. Quindi vediamo costi delle bollette gas che sono arrivate e stanno arrivando a costi stratosferici, a 1,42 euro. Quindi mettene in grandissima crisi le famiglie, le famiglie più deboli, pensiamo ai monoreddito, pensiamo ai pensionati. Esiste un osservatorio nazionale sulla povertà energetica che è stato istituito nell'agosto 2022, ma francamente vorremmo capire se è operativo, perché se è operativo ci chiediamo cosa stia facendo. È partecipato ad esempio da esponenti di Arera, di Acquirente Unico, da persone individuate dal Ministero delle Politiche Sociali, quindi dovrebbero ben capire esattamente cosa sta accadendo agli italiani, ma ad oggi tutto tace. Un escamotage, ma solo per quello che riguarda l'elettricità e per i privati cittadini, è quello di richiedere entro il prossimo 30 di giugno di tornare nel mercato tutelato. Tutti noi sappiamo che la completa liberalizzazione del mercato elettrico ancora non si è compiuta. Esiste ancora il mercato tutelato, esisterà fino al 30 di giugno di quest'anno, del 2024. Quindi anche coloro che erano già transitati nel mercato libero, ed erano già nel mercato libero, stanno vedendo questi aumenti così forti, possono richiedere di rientrare fino al 30 di giugno 2024 nel mercato tutelato, che ricordo fino al 30 di giugno 2024 è gestito da SEN, Servizio Elettrico Nazionale, per intendersi la vecchia Enel, e dopodiché non optare per il nuovo gestore. Così verranno transitati automaticamente nel servizio tutele graduali, che è stato assegnato territorialmente tramite delle aste pubbliche, e ad oggi sembra essere particolarmente competitive. È un escamotage, ripeto, io credo che vada completamente ripensato, perché quando si è scelto, questo purtroppo anni fa, di arrivare a una completa liberalizzazione, non avevamo ben compreso che il mercato non era assolutamente maturo. Quarto e ultimo appuntamento, lo scorso 29 aprile, presso il liceo Vittoria Colonna di Arezzo, degli incontri dal titolo Noi ragazzi siamo estranei alla mafia, dedicato appunto alla sensibilizzazione delle nuove generazioni, alla lotta contro la criminalità organizzata. Tema dell'incontro, l'attentato terroristico organizzato da Cosa Nostra, che colpì e sfregiò Firenze nel 93 la strage di via dei Georgofili. È stato particolarmente toccante per gli alunni e i professori presenti ascoltare le storie dei due ospiti e pensare come in pochi secondi, in una calda e serena notte di primavera, si fosse invece scatenato l'inferno. e purtroppo insomma con un importante bilancio sotto il profilo delle vittime, una storia appunto che gli studenti hanno ascoltato con tanta attenzione. Primo maggio è anche sinonimo di Vespe, allora è tornato ad Arezzo, poi è andato verso il Casentino appunto il raduno del Vespa Club. Centinaia di Vespe dall'Italia e dall'estero, un corteo colorato che dal cuore della città di Arezzo si è diretto verso il Casentino. Come ogni primo maggio è tornato il tradizionale appuntamento promosso dal Vespa Club Arezzo, giunto alla ventitresima edizione. Benvenuti in questa bellissima location, ma non mi piace in inglese, in questo bellissimo prato, all'ombra proprio sotto con la protezione del Petrarca. Dopo il ritrovo al prato e la benedizione di Don Alvaro, tutti in sella alle Vespe, l'ha parato attraversato il centro storico per poi proseguire verso Poppi. Diciamo che siamo un pochino meno del solito, siamo circa 250 equipaggi, ma abbiamo alle spalle il raduno mondiale che ci ha un po' declassato come cosa, però va bene 250. Come ogni anno si vanno a scoprire le bellezze della nostra provincia? Certo, ogni anno facciamo il giro delle vallate, quest'anno abbiamo un casentino, bellissimo tra parentesi il casentino, andremo al castello di Poppi, dove faremo un incontro fisico, del Vasari che festeggia 450 anni della morte qui a Rezzo, con Dante e su si stringeranno la mano. L'ennesimo evento sportivo che la nostra città ospita, questo è un evento tradizionale e che porta come sempre anche tutti quei valori aggiunti degli eventi sportivi, delle persone, visitatori che vengono in città, in questo caso l'ambito è provinciale perché chiaramente abbiamo, come diceva Roberto, questo giro a Poppi con questo anteprima dell'anno vasariano, una cosa dove noi puntiamo molto come comune, come fondazione guido, come fondazione in tour e quindi benvengano anche i vespisti da fuori che conosceranno un po' di più sul nostro vasario. Siamo allo sport, Marco Evangelisti non sarà l'allenatore dell'Amen BC Servizi nella prossima stagione. Dopo cinque anni il tecnico Valdarnese e la società Amaranto appunto sono ai saluti. Ringrazio il presidente, ha detto il tecnico e tutta la società per l'opportunità che mi hanno dato in questi cinque anni, penso di aver ripagato la fiducia e penso che abbiamo fatto anche ottimi risultati assieme. Voglio ringraziare tutti i giocatori e gli allenatori della SBA che mi hanno aiutato a crescere in questi anni. Un ringraziamento particolare a quello che è stato il mio staff, conclude Evangelisti, Stefano e Simone, che sono stati fenomenali nei loro ruoli, oltre che persone speciali. Un ringraziamento ovviamente anche da parte del presidente, Mauro Castelli, ringrazio Marco, ha detto per la professionalità e la dedizione di questi anni in cui abbiamo percorso insieme una strada che ci ha fatto crescere, che ci ha fatto raggiungere tanti traguardi con la prima squadra e anche con le giovanili. Amarco, conclude Castelli, faccio i miei migliori auguri per una carriera ricca di soddisfazioni. Venerdì prossimo ad Arezzo una giornata per ricordare Don Paolo De Grandi. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Ci sarà anche un incontro tra la rappresentativa del Vaticano e la nuova squadra di calcio a 5 formata da soli preti. Il Vangelo attraverso il calcio è il titolo della giornata di sport e solidarietà nata per ricordare la figura di Don Paolo De Grandi, parroco di Campolucci, calciatore professionista, guida spirituale per un'intera comunità e per la polizia di Stato, scomparso prematuramente a causa di un malore proprio in un campo di calcio nel luglio del 2016. L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione di Arezzo, con il padrocinio della diocesi, ha quindi voluto questa giornata di sport per ricordarlo. La struttura sportiva dell'Olmo Ponte ospiterà le partite di calcio a 5. Ad affrontarsi saranno la Selecao Sacerdoti di Calcio, Clericus Arrezzium, la Gendarmeria del Vaticano, Amici di Don Paolo, la Polizia di Stato e il calcio Champagne Arezzo. Il suo mantra era il Vangelo attraverso il calcio, che era più che altro uno stile di vita che riusciva ad avvicinare tantissime persone con questo sistema. Abbiamo visto a Campolucci, dove lui era parroco, ha creato tante strutture per lo sport, che è stato sempre presente anche nell'aretino, nel calcio. A maggior ragione poi ha creato insieme ad altre persone, credo in Palestina, se non ricordo male, un campo da calcio per i bambini palestinesi. Abbiamo di nuovo invitato i ragazzi della Gendarmeria e loro hanno accettato con molto piacere, anche perché, ripeto, si ricorda un sacerdote calciatore professionista, perché questo ragazzo giocava nel Verona. Questa manifestazione ha ovviamente anche uno scopo solidale. Assolutamente, come tutte le cose che organizziamo, i nostri sponsor sanno benissimo che poi alla fine, oltre che un reticonto serio da presentare, abbiamo sempre un fine benefico e il fine benefico è per la Caritas, anche perché abbiamo la partecipazione del Vescovo, che si impegna molto per questo evento, ed è là il di Arezzo. Il Vescovo lo vedremo dare qualche calcio al pallone? Forse ci rispondete. Sì, probabilmente il Vescovo sarà al campo a dare la benedizione, sicuramente, e non sappiamo se darà il calcio d'inizio, ma potrebbe anche essere di sì, insomma, tanto è una persona molto presente, per cui è stato il primo ad accettare immediatamente il patrocinio per questo evento. Nel contesto, al campo sportivo, sarà presente anche una delegazione degli amici di Vada di Cortona, con i ragazzi disabili che loro gestiscono, proprio per dar forza alle persone più deboli e aiutare in qualsiasi modo le persone. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ancora un buon primo maggio a tutti i nostri telespettatori, grazie per l'ascolto e arrivederci.